Un sorriso di stelle illumina l'ospedale del Ponte di Varese. Devoluti all'Associazione T'Incontro, i fondi raccolti durante la serata del 16 luglio, organizzata da Confcommercio Uniascom e Fipe Provincia di Varese, insieme all'Associazione Provinciale Cuochi Varesini, Coldiretti Varese, Associazione Panificatori, Federcarni, Associazione Pasticceri per la Vita, Unibirra, The Donegal Pub e Ristorante Sempi. Il denaro verrà utilizzato per il progetto Banca del Latte Umano, avviato al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Varesino. Abbiamo avuto 800 ospiti quella serata e soprattutto abbiamo la soddisfazione più grossa è stata vedere che tutti i collaboratori del nostro territorio, gli appartenenti alla Confcommercio e non, si sono prestati proprio per riuscire a realizzare questo evento. Abbiamo avuto circa 150 persone che hanno collaborato volontariamente, senza scopo di lucro, quindi è stata veramente una soddisfazione importante per il nostro territorio e per la promozione dei prodotti nel nostro territorio. Grazie alla donazione di Sorrisi di Stelle riusciremo a raggiungere l'obiettivo di acquistare il carrelli da trasporto e per trasportare i frigoriferi che conterranno il latte delle mamme che doneranno appunto il loro latte. Altro obiettivo molto importante che apre questa iniziativa è un progetto che avremo da qui in avanti che consiste proprio nell'andare porta a porta a raccogliere il latte delle mamme per poterlo trasportare poi dopo all'interno delle blood. Per fare questo il primo passaggio è proprio quello di acquistare questi frigoriferi da trasporto. Il prossimo passaggio sarà quello di riuscire a stimolare delle donazioni per avere magari poter acquistare una macchina specifica e adeguata per poter andare in giro per il Varesotto a raccogliere il latte donato. Dunque un grande risultato è stato raggiunto ma ancora tanto resta da fare. Per questo si sta già lavorando ad una nuova edizione di Sorriso di Stelle. Sicuramente nel mese di luglio proporremo di nuovo questa iniziativa fantastica. Non sappiamo ancora le date precise ma sicuramente nel mese di luglio ci rivedremo. L'iniziativa sarà sicuramente nobile come tutte le altre.